Buongiorno a tutti, mi chiamo Davide Romagnoli, sono un architetto, progettista esperto in costruzione di case in biodilizia e soprattutto con struttura in legno. Quest'anno ci siamo iscritti al portale di Mobile Green perché sembrava un portale fresco, intuitivo e devo dire che stanno già arrivando molti nominativi, alcuni anche molto interessanti. La caratteristica che ci piace di più di questo portale è che pubblicizza non soltanto professionisti ma anche aziende che lavorano nella biodilizia, infatti io lavoro assieme al mio collega Domenico Mondardini come agente di vendita per la Spazio Positivo by Ranch House che è una delle aziende leader nel settore della costruzione di case prefabbricate in legno e questa sinergia tra noi e l'azienda in questo caso ma diciamo in generale tra aziende progettisti e esperti in genere del settore crea una rete di contatti molto interessante per lo sviluppo della bioarchitettura in generale cosa a cui io personalmente tengo molto. Grazie a tutti e sceglietti Mobile Green. Grazie